Buongiorno, benvenuti, sono Silvano Saccone del Polo Museale della Campania. Sono qui oggi per presentarvi due bellissimi dipinti della collezione dell'appartamento storico del Palazzo Reale di Napoli, due dipinti particolarmente significativi del patrimonio di questo palazzo, delle nostre collezioni, due dipinti di Gabriele Smargiarsi, un grande pittore di cui cercherò di illustrarvi lo stile e la storia, appunto, di questi due straordinari capolavori. Allora, buongiorno, mi dicevo, ripeto, noi ringrazio di essere venuti per innanzitutto, perché oggi è una giornata particolare, con un decreto ministeriale, il 9 ottobre, il Ministero dei Beni Culturali, l'Ivart, che, come sapete, si occupa del nostro patrimonio e anche del turismo e del paesaggio, il nostro ministro ha deciso di istituire una giornata nazionale del paesaggio. In realtà siamo un po' in ritardo, perché la nostra cultura condivisa, la cultura ecologica, l'attenzione verso il paesaggio, che ormai è il patrimonio, ormai ha già qualche decennio di consapevolezza, di coscienza.